Su delega della procura di Reggio Emilia e sotto la direzione del procuratore Calogero Gaetano Paci, militari della Guardia di Finanza e agenti della Polizia di Stato stanno eseguendo un decreto di perquisizione e due decreti di sequestro preventivo emessi dal GIP Luca Ramponi. L'operazione denominata Titano ha smascherato un'organizzazione criminale che operava attraverso società cantiere per emettere fatture per operazioni inesistenti, facilitando l'evasione fiscale per oltre 62 milioni di euro dal 2018 al 2022. Le società cantiere, formalmente attive nel commercio di vari prodotti, inclusi carburanti e macchinari, erano in realtà strumenti per creare documentazione fittizia. Le società utilizzatrici, coinvolte nel commercio all'ingrosso di imballaggi e altro, sono state oggetto di perquisizioni volte a raccogliere prove sull'uso delle fatture inesistenti. Il giudice ha disposto il sequestro preventivo di beni per un valore totale di 15 milioni di euro, ritenuti proventi illeciti nella frode. Le operazioni comprendono anche la notifica di informazioni di garanzia a 50 persone fisiche denunciate a piede libero per reati fiscali. Si sottolinea che la presunzione di innocenza si applica a tutti gli indagati fino a una sentenza definitiva.